Neuroanatomia Carissimi studenti, in questa lezione parliamo dell'occhio, quindi dei sensi, parliamo dell'occhio. Mi raccomando di segnare e fare dei riferimenti a questa immagine. Anche a questa, che vi ho messo nel corso di fisiologia della vista, della neurofisiologia della visione, mi raccomando, sono delle slide che conoscete, se avete seguito il corso di fisiologia, io qui ve le presento un attimo, perché sono degli atlanti molto importanti, affinché possiate capire tutto ciò che vi dirò dopo. I miei modelli didattici, che potete vedere, anatomici, numerati, vi ho scritto qui cosa sono, poi li vedremo. Idem qui, mi raccomando, disegnate, fotocopiate, fate qualche cavolo che volete, l'importante è che le abbiate davanti, le avete numerate, e vi ho scritto anche le varie regioni anatomiche. Sclera, cornea, coroide, iridea, retina, nervo ottico, ora serrata, mi raccomando, iniziate a imparare per il momento, anche se non sapete che cavolo significa. Iniziate ad avere un attimino un po' un'idea, eh, del nome in quanto tale, poi vedremo meglio da un punto di vista anatomico. Allora, per quanto riguarda l'anatomia dell'occhio, non è soltanto da studiare l'anatomia dell'occhio in quanto tale, ma di quello che è, cosiddetto, l'apparato visivo, diciamo così, che oltre al globo oculare, vi ricorderete questo mio modello didattico, quando vi ho spiegato tutti i muscoli dell'occhio e via dicendo, riprendetevi le lezioni perché queste cose le dovete sapere, eh, abbiamo anche altre importanti regioni come la ghiandola lacrimale. Iniziate a fare familiarità, familiarità con questi modelli perché in sezione, in questi miei modelli didattici, vi presento come l'occhio è formato, immaginate come se fosse una sfera, più o meno una sfera, più o meno, non è una sfera perfetta ovviamente, più o meno una sfera è formata da diversi strati dall'esterno all'interno, come potete vedere, poi vedremo come si chiamano, eh, adesso una panoramica, è importantissimo l'apprendimento per immagini, anche se ancora non avete capito bene il tutto. Questi miei modelli adatomici vedete qui, eh, è antero posteriore, è qui, antero posteriore, l'ho girato, in questa immagine, eh, in questa immagine ho tolto tutta questa regione anteriore, però capite da voi, vedete, questa regione qui, altro non è che questa, che vi ho ingrandito maggiormente, e vedete qui la coroide, guardate, anche qui, continua con quello che è il corpo ciliare, e poi come vedete l'iride, che potete vedere anche qui, vedete, l'iride, non è la regione trasparente, questa che vedete, questa vi ho già detto che è la cornea, ma, possibilmente, quella che dà il colore all'occhio, per farvi capire in due parole. Come vi ho già detto, vedete, la cornea è una regione trasparente dell'occhio, ed è molto importante per quello che è il processo di rifrazione della luce, in modo tale che poi possa entrare, vedete, a livello della retina, dove avviene il processo di trasduzione del segnale che vi spiego in fisiologia. Poi parleremo, come vi ho già detto, della cornea e degli altri strati dell'occhio. E come vi dicevo prima, la sclera... Adesso, prima di continuare, vi faccio vedere il mio modello anatomico dell'occhio, ve lo metto a girare, in modo tale che potete vedere i vari strati, eh, sclera, cornea, coroide, irglie, retina, e le altre regioni di cui vi ho parlato, a girare dei muscoli oculari, che ho trattato nelle precedenti lezioni, andate a ve li riprendere, mi raccomando, perché li ho trattati tutti bene, e vi ho fatto vedere come lavorano, singolarmente in sinergia tra loro, quindi guardatelo questo video, perché è molto importante, da un punto di vista, diciamo, tra virgolette, in 3D, vi dà maggiormente l'idea, e poi vedremo anche un po' di scomporlo. e poi vedremo anche un po' di scomporlo. la retina in giallo, la coroide, ricca di vasi sanguigni, la retina in giallo, la retina in giallo, la coroide, ricca di vasi sanguigni, la sclera in bianco. Allora, da un punto di vista istologico, qui avete uno schema a destra, qui ho un'immagine del microscopio ottico a sinistra, qua, così per poter comprendere ciò che vedete nel, ecco, da un punto di vista di anatomia microscopica, vedete che gli strati che vi interessano, dall'esterno verso l'interno, la retina è costituita essenzialmente da 5 strati, qui, quali sono questi 5 strati, abbiamo uno strato nucleare, e per cui li ho anche scritti comunque, non è caso, nel senso, uno strato nucleare esterno, dal momento in cui qui, ovviamente, non abbiamo fotoregettori, questo significa che la luce, se stimola qui, se arriva qui, colpisce a questo punto, non stimola nessun reggettore, ma se non stimola nessun reggettore, vuol dire che io avrò un punto di conseguenza nel campo visivo, in cui non percepisco ciò che sto vedendo, questo che cosa significa allora? Che quando guardiamo qualcosa, dovremmo, teoricamente, avere un, effettivamente, un punto, un punto cieco, cioè dove non vediamo, dove non vediamo, non percepiamo una parte del campo visivo, immaginate voi di guardare, siete lì a guardare, aprite la finestra, guardate il panorama, dovrebbe, deve esserci un punto, in cui non percepite quello che esiste, quello che vedete, appunto perché quel punto è dato dal fatto che quelle zone che sono lì presenti, colpiscono il disco ottico, colpiscono questa regione qui, il punto cieco a livello della retina, e quindi di conseguenza non viene elaborato nulla, però perché questo punto cieco nel campo visivo in realtà non lo vediamo, cioè percepiamo ugualmente tutto l'ambiente del nostro campo visivo?